amici del web buongiorno ci troviamo oggi all'aeroporto di capodichino stiamo aspettando padre alfonso farina di ritorno da new york cari amici stiamo aspettando padre alfonso che sta ritornando insieme a tutti i fedeli della parrocchia del cuore santissimo di gesù di torre gaveta cuori fiori lo striscione i pompon per fare una grande accoglienza al nostro campione siamo ovviamente all'aeroporto di capodichino agli arrivi allora chiediamo un po' in giro cosa vogliamo dire al padre alfonso un messaggio per lui io voglio dire grazie perché il tuo entusiasmo l'hai trasmesso a me e un po' a tutti quanti quindi grazie per quello che hai dato e quello che hai saputo dare a me e penso a ognuno di noi sei tornato nella nostra parrocchia padre alfonso siamo orgogliosi di te padre alfonso sei il nostro campione qui abbiamo la sorella che si nasconde cercheremo di beccarla prima o poi cosa diciamo padre alfonso? che non avevamo dubbi che sarebbe riuscito nella sua impresa come in tutte le cose che si cimenta grazie siamo orgogliosi di te padre alfonso e ti vogliamo bene io mi commuovo per cui non posso parlare che dire sicuramente che lo vogliamo bene non amico non amico non amico Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sto imbarazzatissimo, che vergogna. Perché solo un po' di gente che ho urlato nell'aeroporto con qualche striscione, una cosa molto sobria. Molto, molto sobria. Quindi non capisco il tuo imbarazzo. Comunque dicevamo, al ritorno quindi, quando sei arrivato? Niente, veramente è una felicità che non si può descrivere. Poi con calma la descrivo, ma in questo momento sono imbarazzatissimo. Ma magari ci riproviamo l'anno prossimo? Sicuramente.